Allora, diciamo che ci sono attività vitali nella vita di un essere umano ed attività non vitali, ok? Questa è una definizione abbastanza semplice per la quale non c'è bisogno nemmeno di fare troppe spiegazioni. Quali sono le attività vitali per un essere umano? Per esempio, avere dei figli, secondo me. Una delle soddisfazioni principali, forse anche l'unica che ti può dare quel grado di soddisfazione che ti porta al prossimo livello, è il fatto di avere dei figli. Il fatto di avere dei figli ti porta comunque ad avere delle responsabilità, degli obblighi nei confronti dei figli. Poi ovviamente uno potrebbe fare sempre il genitore che non ha responsabilità a fare quelli che scappano, però diciamo che non è il nostro caso. Facciamo che, accettiamo che il fatto di portare dei figli porti con sé anche uno step verso il prossimo livello di maturezza, di maggiore età. Come possiamo far sì che questa cosa entri anche nella nostra azienda? Cioè, come facciamo a far sì che la nostra azienda diventi più responsabile verso le attività che l'azienda stessa deve fare? O meglio, quando una persona lavora in un'azienda, fa sempre un sacco di cose, ok? Alcune hanno un senso, altre no. Alcune portano un ricavo per l'azienda, altre no. In teoria, la modalità anni 80 della gestione aziendale dice che se tu stai cazzeggiando, per esempio parli al telefono, con tua suocera, tu stai facendo delle attività che non sono produttive per l'azienda. Però, cosa succede se la suocera, in realtà, fosse il capo di una potentissima multinazionale che potrebbe acquistare addirittura la tua azienda, o l'azienda per la quale lavori, quindi dandole un valore sul mercato molto più grande di quello che magari ha al momento? Ecco che il ruolo di suocera, o meglio, quindi il tuo, chiamiamolo, conflitto di interessi, non è più così importante. Quel tempo che tu stavi impiegando al telefono con quella persona, non era più così buttato via. Questo perché il rapporto di causa-effetto tra la tua azione e il risultato che quell'azione potrebbe avere è direttamente quantificabile. Oggi con il mondo social, con il mondo multimedia, con il mondo wewe, come lo chiamiamo oggi l'internet, è abbastanza possibile quantificare tante cose che ieri, per esempio, non si potevano quantificare. E ovviamente cosa succede? Che tutto quanto diventa invasione della privacy, tutto quanto diventa GDPR, per usare una parola molto usata in questo periodo. ovvero scusate ovvero che cosa succede? Gli stati cominciano a capire che le persone non sono più così piccoli attori all'interno del loro recinto. le persone non sono più soltanto cittadini e le aziende, soprattutto, non sono più soltanto aziende ma ogni entità va verso le altre. Una persona può essere anche può anche rappresentare un'azienda un'azienda può rappresentare il bene o la volontà di più persone un'azienda può decidere come le persone impiegano il loro tempo e quindi può anche decidere come questo tempo può essere messo a frutto piuttosto che sprecato. E quindi che cosa succede? Che si creano nuove aziende con persone che fanno lavori strani che ieri, per esempio, non erano contemplabili. Per esempio il social media manager ovvero è una persona che cazzeggia tutto il giorno su Facebook? Boh, non lo so. Quanto valore porta l'azienda è una persona che sta su Facebook tutto il giorno? Quanto valore porta l'azienda è una persona che fa outreach tutto il giorno? Ovvero che va a cercare rapporti commerciali intrattiene relazioni? O anche per esempio acquista prodotti da altre aziende? tutto questo potrebbe essere quantificabile in questo momento però non lo è perché in questo momento siamo nel fantastico nulla in cui ognuno dovrebbe capire quanto vale per se stesso per la propria famiglia per il proprio destino e quanto vale per l'azienda per cui lavora che cosa succede? Che appena una persona capisce quanto vale per l'azienda per se stesso bla bla potrebbe scattare lo stress perché nel momento in cui quello che tu capisci di valere non viene dato indietro dall'azienda che magari in quel momento ti sta pagando meno di quanto tu ti aspetteresti di essere pagato ecco che si crea dello stress all'interno della persona e l'obiettivo di oggi di questo podcast che probabilmente non pubblicherò come gli altri 10 podcast che non ho ancora pubblicato è questo cercare di capire tu e io che siamo separati da questo velo di spazio-tempo che non ci consente di guardarci in faccia ma che in fondo stiamo comunque comunicando tu e io questo deve essere stata la frase con la distanza soggetto-predicato più lunga mai posta con anche una parentesi con anche una parentesi metalinguistica all'interno di un'altra parentesi ebbene caro amico o caro amica che stai ascoltando questo podcast come facciamo a rilassarci in tutto questo contesto nel quale il nostro valore non è chiaro nel quale la misurabilità delle azioni che noi facciamo per le aziende non c'è nel quale le aziende devono darci un valore quindi devono dare un valore al nostro tempo in funzione di che cosa in funzione dei risultati passati o in funzione delle promesse che noi facciamo il giorno che ci fanno il colloquio non si sa in questo contesto purtroppo è fondamentale rilassarsi ed accettare che in fondo non c'è una misurabilità per tutte le cose e che in fondo alla fine della fiera quando torniamo a casa esistono cose importanti e cose meno importanti io in questo momento sto andando a prendere la mia bimba a scuola e la porterò a gioco danza che è una cosa che non ho ancora capito esattamente che cosa sia ma a lei piace per cui lo faccio dovrei prendere una tata per andare a prendere mia figlia a scuola e portarla a gioco danza dovrei ottimizzare meglio il mio work life balance o dovrei percepire io stesso uno stipendio per questa attività di papà che sto facendo no esattamente come io non considero utile pagare una persona perché mi pulisca casa ma preferisco prendermi 10 15 20 minuti tutti i giorni per fare delle attività che mi consentono di avere la casa in uno stato decente non è solo perché io sia taccagno sì è vero sono taccagno la mia ex ve lo potrebbe confermare però c'è nonostante è proprio che penso ci siano una serie di attività importanti ed essenziali alle quali noi non possiamo rinunciare una per esempio è l'igiene di noi stessi la cura di noi stessi devo pagare una persona perché mi venga a lavare le ascelle prima che io vada a portare mia figlia a gioco danza no devo pagare una persona perché pulisca casa mia secondo me no ovviamente secondo voi magari sì non lo so prendiamoci un minuto per riflettere io sto qui con te all'interno di questo podcast ma prenditi un minuto per riflettere quali sono le attività essenziali quelle vitali per la tua vita quelle che devi fare comunque e mettiamo all'interno di queste attività vitali qualche attività che non pensavamo lo fosse o viceversa qual è il valore del tuo tempo qual è il valore del mio tempo della tua giornata dove la spendi come la spendi soprattutto con chi la spendi e soprattutto diamoci pace datti pace caro amico cara amica perché non tutto è misurabile non tutto è un ticket non tutto è un task non tutto sta all'interno dello stipendio ma soprattutto non tutto quello che farai ti verrà pagato ma la tua soddisfazione alla fine della giornata deriva direttamente da quello che farai e non da quanto verrai pagato anche se se verrai pagato poco prima o poi dovrai romperti i coglioni e andare a lamentarti con qualcuno o magari a lamentarti con te stesso e o con te stessa io sono arrivato a scuola e tu dove sei arrivato o dove sei arrivata?